Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi facciamo un video un po' diverso dal solito, però insomma è tanti mesi che lo sto covando, sto rimandando, ma è arrivato finalmente il momento, perché oggi vorrei cominciare a raccontarvi un po' di libri di autrici afro-italiane, perché in questi mesi, se mi seguite su Instagram penso che non sia una novità, ma negli ultimi mesi, diciamo negli ultimi sei mesi, ho letto davvero tantissimi libri di autrici afro-discendenti, che possiamo definire afro-italiano ovviamente, ma non solo, e quindi sono qui per raccontarvi un po' questi libri, perché trovo che siano davvero dei punti di vista interessanti e assolutamente arricchienti per tutti, soprattutto perché insomma ci sono ragazze e donne da un talento spaventoso, quindi insomma è sempre bene supportarle. Parto in ordine cronologico da dove ho iniziato io, in modo che così, insomma tramite il mio percorso, e spero che possa ispirarvi insomma e stimolarvi a vostra volta, incuriosirvi ad approfondire queste autrici meravigliose. Nel corso degli anni io avevo già letto diverse opere, soprattutto di autori mi sono resa conto, autori afro-discendenti, quella che viene definita narrativa migrante, no? Di persone che abitano in Italia, hanno origine non strettamente italiana, ma magari sono figli di seconda generazione, sono migranti essi stessi, eccetera eccetera, e perché mi ha sempre incuriosito un po' la definizione della propria identità, no? E questo è un tema che è stato estremamente portante per un sacco di anni, ma penso che leggere tutte queste cose mi abbia davvero insegnato anche molto altro e non so, io parto sempre dal presupposto che non possiamo pensare di sapere tutto, di avere le conoscenze su tutto, né soprattutto conoscere le realtà e conoscere soprattutto le esistenze, le problematiche, eccetera, che non viviamo sulla nostra pelle, in questo caso la pelle è abbastanza rilevante come tema, però leggere queste storie per me è stato davvero un modo per riuscire ad espandere moltissimi miei orizzonti, quindi mi piacerebbe innanzitutto dare molto spazio a queste autrici perché sono davvero pazzesche e quindi spero che anche voi possiate insomma sia approcciarvi che iniziare anche a seguirle perché insomma io sono qua solamente per raccontarvi le mie letture, ma sono attivissime sia sui social che nel mondo editoriale. Partiamo dall'inizio, dove è iniziato tutto, ovvero Esperanz Ripanti che ha scritto e poi basta, io seguo Esperanz su Instagram da tanto tempo, Esperanz è davvero uno dei primi account che io ho seguito della community italiana che parla di libri, ok? E anche se non racconta strettamente questi e devo dire che mi ricordo precisamente alcune delle sue stories che non mi ricordo se due o tre anni fa, ma davvero per me sono scolpite nella mente perché insomma penso che sia rimasto davvero nell'immaginario di tutti e spero che insomma nessuno di noi lo dimentichi, insomma l'attentato quello di Macerata, quindi l'episodio dove è stato coinvolto Luca Traini che si è messo a sparare solamente con obiettivo persone dalla pelle nera e non so, per me fu un episodio che non riesco a togliermi dalla mente e mi ricordo anche soprattutto che uno dei motivi per cui per me non sarei mai andato dal cervello è che Esperanz il giorno dopo scese in piazza a Torino e scese in piazza perché non riusciva a tenersi dentro quella paura che quella paura però era diventata un'onda energetica per lei, è una cosa che io ho sentito molto vicino a me perché penso che chiunque diventi un attivista ha quel momento dove non riesce più a stare fermo, non riesce davvero più a far finta di niente, no? Ed è una cosa che anche se in ambito totalmente diverso, in modo totalmente diverso ho vissuto molto da vicino anche io per altri ambiti, soprattutto in ambito femminista e quindi niente, quando è uscito e poi basta, che è questo grande preambolo per portarvi un po' a raccontarvi di questo libro, quando è uscito e poi basta io l'ho ordinato subito perché non vedevo l'ora di leggere una storia scritta da Esperanz e in questo caso racconta fondamentalmente quello che dice la premessa del sottotitolo, cioè il manifesto di una donna nera in Italia e in questo caso è un manifesto ma è un manifesto anche molto intimo e molto personale e penso che però nell'essere intimo e nell'essere personale abbia delle dimensioni collettive che racchiudono moltissime delle tematiche che hanno in comune ragazze nere in Italia e altro appunto che per me è stato rilevante riguardo a questo libro che effettivamente rispondeva a quella che era una mia esigenza, lo dico in maniera estremamente egoistica. Io ho letto tante autrici nel corso della mia vita nere ma soprattutto moltissime che sono afroamericane, quindi ho sempre visto questa visione di una società che in qualche modo è diversa dalla nostra e quindi mi raccontava davvero poco di quella che è la realtà invece di ragazze nere, ragazze afrodiscendenti e non solo in Italia e avevo bisogno di leggere questo libro perché mi interessava soprattutto capire una realtà che io non vivo in prima persona ma è molto più vicino a me di quanto ovviamente può essere la realtà afroamericana e allo stesso tempo capire anche qual era la storia in comune, quali potevano essere i punti di contatto al di là dei saggi perché i saggi sono importanti, i saggi sono utilissimi, approfondiscono concetti e li fissano nel tempo però una storia personale ha una potenza che il saggio non riesce ad avere e riesce a coinvolgerti in una maniera molto più forte, non giriamoci attorno. Quindi quando ho iniziato a leggere e poi basta, fondamentalmente l'ho fatto anche per ragioni estremamente egoistiche volevo davvero capire meglio cosa significasse essere una ragazza nera in Italia con tutta una serie di cose che ti ribollano dentro e che devi mettere fuori che è un po' anche questa sensazione, questa spinta che io ammiro moltissimo in tutte le persone che fanno qualcosa o cercano comunque di attivarsi e rendere tangibile il proprio contributo per modificare le cose che insomma non si amano e non si apprezzano, si discriminano eccetera eccetera quindi tutta questa premessona di nuovo per arrivare a E poi basta che è un libro che ripercorre fondamentalmente la storia di Esperanz in alcuni punti e in tanti altri invece fondamentalmente getta le basi per comprendere quali siano le maggiori discriminazioni le maggiori problematiche e in tutte le opere che vedremo anche in seguito c'è una cosa ricorrente che veramente io non riesco a togliermi dalla testa il fatto che in Italia di queste cose non si parli perché non si affronta mai il tema del razzismo non si affronta mai il tema della questione delle persone migranti non si affronta mai il tema delle seconde generazioni non esiste rappresentazione, non esiste in alcun modo una sorta di discussione collettiva riguardo a questi temi perché i problemi non ci sono, noi siamo bravissimi nel dire che non esiste no ma l'Italia è razzista, no ma figurati, no ma... questo è estremamente valido, estremamente importante perché non è solo dentro quest'opera che salta fuori questo concetto che è uno dei motivi per cui le discussioni vengono spente vengono fermate sul nascere e non si portano mai avanti in più devo dire che sempre una cosa che io ho trovato estremamente interessante anche se davvero ripeto con storie e non so vissuti estremamente diversi chiaramente non è paragonabile la mia storia a quella di Esperanz ma c'è un qualcosa che secondo me è quel punto che il femminismo intersezionale dovrebbe tenere sempre a mente, ci sono punti di contatto anche in storie completamente diverse e io in Esperanz ho letto una rabbia che mi ha ricordato molto la mia adolescente ho trovato quei punti dove... ed è chiaro che io ho una storia completamente diversa ma per me leggere anche quel tipo di rabbia, quelle sensazioni dove io mi sono ritrovata è forse il punto più di contatto che io posso avere con una storia che è estremamente diversa dalla mia quella rabbia per me è stata estremamente rilevante sia perché la trovo estremamente comprensibile come sapete io ho un grande rispetto per la rabbia è un sentimento che trovo sempre legittimo e anche sempre comprensibile soprattutto quando si tratta di ragazzi e di ragazze e in questo caso l'ho trovato proprio il perfetto punto di contatto dove chiunque si può rivedere anche se poi bisogna ascoltare soprattutto ciò che è una narrazione che non ci coinvolge e è strana come dinamica però è stato uno dei tanti libri che mi ha messo di fronte a questa prospettiva da un lato abbiamo un punto di contatto molto simile ma poi bisogna ascoltare semplicemente bisogna semplicemente assorbire, recepire e sostenere un tipo di storia come questa e Speranz dice che voleva uscire dal suo groviglio allora, ti chiedo solo questo è la premessa del libro racconta questa mia paura insieme trasformiamola in forze io credo che sia semplicemente il resoconto di quello che è e poi basta è davvero utilissimo chiaramente non è esaustivo nel raccontare tutte le donne nere in Italia e le esperienze di tutte le donne nere in Italia ma è sicuramente uno dei punti di partenza che consiglierei a chiunque come lo è stato per me è stato molto utile quindi insomma ne ho già sprolocchiato a sufficienza spero sia tutto chiaro quello che volevo dire e quindi insomma andate qua ovviamente sotto consiglio di Speranz che nel libro di E poi basta alla fine consiglia un sacco di autrici afro-italiane io avevo già riempito il mio carrello di Amazon e forse la base da cui era più semplice partire era La mia casa è dove sono di Ijaba Shego Ijaba Shego è stata forse una delle autrici che per prima ha aperto la strada per le autrici afro-italiane ed è dopo vediamo anche un altro volume che ha cura di Ijaba che invece racconta anche la fase 2 questo è stato forse il suo primo libro ed è un libro che come moltissimi di quelli che vedremo fondamentalmente si concentra sull'identità perché l'identità è uno dei temi davvero portanti di tantissime opere di autrici afro-italiani e di autori afro-italiani perché l'identità è sempre qualcosa di difficile da definire soprattutto nel nostro paese e in questo caso quello di Ijaba a parte che io mi sono innamorata della sua scrittura perché è veramente divertentissima molto scorrevole mai banale insomma io davvero ve la consiglio moltissimo soprattutto vi consiglio la mia casa dove sono se volete comprendere molto a fondo cosa significa avere un'identità così complessa un'identità che non può essere definita semplicemente italiana semplicemente nera semplicemente somala semplicemente una cosa perché l'identità è fatta davvero di tantissimi elementi e in questo caso io penso che Ijaba lo riesca a rappresentare una maniera chiara e universale sopra ogni cosa è un libro molto breve perché infatti questa edizione che ho io di Luescher è un'edizione scolastica infatti la seconda parte del libro sono esercizi e io penso che chiunque debba fondamentalmente partire da questo perché se vi state chiedendo cosa significa quello che è l'obiettivo è molto semplice per capire l'identità nera, l'identità afroitaliana l'identità afrodiscendente io davvero a parte che sono rimasta fulminata da Ijaba e sto cercando di recuperare tutto ciò che ha scritto e lo vedremo anche presto però davvero vi direi di partire da questo perché è un libro estremamente, estremamente significativo nella sua semplicità, anche nella sua ironia fa super ridere e lei è davvero ironica e divertente questo è anche uno dei motivi per cui mi sono innamorata della sua scrittura e soprattutto fa una serie di riflessioni molto importanti anche sul non volere anche definire la propria identità e penso che questo sia super importante e che penso possa davvero coinvolgere moltissime persone anche non afroitaliane quindi nella mia opera di recupero della Ijaba io mi sono buttata su future o future dipende da come viene interpretato ma da quello che ho capito è stato scelto proprio apposta questo titolo si chiama Il domani, narrato dalle voci di oggi questa è un'antologia che comprende 11 racconti di autrici afrodiscendenti e non solo comunque che hanno a che fare con il futuro che hanno a che fare con il futuro partendo dalle origini e in ognuna di queste storie ci sono questi richiami all'identità alla definizione di ciò che era il passato ciò che sarà il futuro il presente cioè sono temi molto significativi proprio attraverso tutte queste storie Ijaba Shegone ha curato l'edizione ha raccolto tutte queste autrici tra l'altro moltissime di esse non lavorano nemmeno in Italia perché sono diventate professoresse in tutte le università più prestigiose del mondo e non so è stato veramente una di quelle raccolte che mi ha lasciato molto ci sono racconti molto diversi alcuni non mi sono piaciuti altri invece devo dire come vedete qua li ho segnati i miei preferiti il mio preferito in assoluto è quello di Letizia e spero di averlo pronunciato bene questa è una raccolta che davvero attraversa tantissime realtà tantissime visioni perché è molto utile per capire la complessità al quadro insomma come ogni narrazione che non abbia a che fare ovviamente con temi di identità cioè la definizione di se stessi del proprio futuro della propria condizione sono estremamente difficili e ci sono davvero racconti che partono da un presente magari dalla scelta di un futuro dell'avere un figlio cosa comporterà avere un figlio altri che riguardano le proprie origini il rapporto con qualcuno che ti richiama un'origine che magari vedi lontano hai sempre vissuto lontano non tutti i ragazzi afrodiscendenti ovviamente hanno vissuto e hanno insomma sperimentato cosa significa tornare in Africa perché è una cosa basilare che noi diamo per scontato ma moltissimi ragazzi non ci sono nemmeno stati è qualcosa che è un richiamo però è una presenza ingombrante molte volte e qualcosa da sbrogliare in questo caso affrontiamo davvero storie super diverse tra di loro ci sono persone che non sono mai andate in Africa persone nati in Africa ed arrivate in Italia persone che invece hanno un legame abbastanza distaccato dalle proprie origini che hanno sempre in qualche modo messi in un angolo per cercare forse più accettazione e che in questo caso guardano il futuro e si chiedono magari anche attraverso la scelta di essere madri della maternità e in qualche modo si chiedono se la propria identità in qualche modo inciderà sui figli allo stesso tempo ci sono storie che sono legami col passato e legami con una terra che magari non hanno nemmeno mai visitato e sono storie molto diverse tra loro con stili assolutamente diversi c'è anche una storia che addirittura è distopia e invece insomma le mie preferite sono in realtà quelle che hanno molto a che fare col presente molto a che fare con qualcosa che effettivamente è molto più tangibile e che però hanno uno sguardo sul futuro insomma uno sguardo sul futuro che parte dal passato e che in qualche modo ci fa i propri conti e trovo anche un grande sollievo poterlo averlo messo su carta forse una sensazione che insomma l'averlo scritto aver chiarito alcuni aspetti della propria identità forse davvero qualcosa di salvifico qualcosa di non lo so che può darti un certo tipo di consapevolezza da un lato ma anche e soprattutto di tranquillità perché fondamentalmente può essere davvero vista da tantissime di queste storie come un fare conti col passato fare conti con le origini e cercare di integrarlo il più possibile in quello che sarà il proprio futuro integrarlo e da lì partire senza avere dei freni senza avere delle questioni irrisolte è molto molto valida davvero anche questo è un volume che vi consiglio assolutamente c'è una grande discontinuità ci sono alcune storie magnifiche alcune storie un po' così altre invece che non mi sono piaciute come normale in tutte le raccolte ma quelle che mi sono piaciute molto mi sono piaciute davvero tantissimo tanto che da questo volume e anche da quello che vedremo dopo ho deciso di leggere alcune autrici infatti da future io passo a pecore nere che anche questa è una raccolta di racconti con quattro autrici infatti sono Gabriella Caroviglia Inghimu Biai Igia Bascego che ormai è la mia colonna portante e Laila Uadia questa è una raccolta anche in questo caso super breve quindi insomma lo leggete davvero in un soffio e ogni autrice ha avuto l'occasione di scrivere due racconti due racconti che hanno anche qui a che fare con una doppia identità una doppia storia una storia che ha a che fare con le origini da un lato ma che affronta soprattutto la questione dell'essere di seconda generazione quindi vivere in Italia nel presente ma essere una pecora nera come si definiscono esattamente in questo libro cioè essere qualcuno che non può passare inosservato cioè essere qualcuno che non è passato inosservato per tutta la vita anzi forse in Italia si è reso sempre più conto e ha avuto una consapevolezza quasi inevitabile del proprio colore della pelle questo è un libro del 2005 quindi ha 15 anni quindi ci sono tante cose che sono percorse in mezzo ma mi rendo conto anche leggendo questo che è un libro che ha un po' di tempo leggendo poi la storia di Esperanz leggendo invece altri libri eccetera che è cambiato pochissimo cioè negli ultimi vent'anni è una discussione che si è affrontata pochissimo e questo volume che è uscito 15 anni fa ma come lo è anche il futuro che è uscito in realtà nel 2019 una cosa proprio lampante secondo me è proprio come a un certo punto non si sia mai affrontata questa situazione anzi in futuro è forse ancora di più questo è evidente viene anche detta questa cosa nell'introduzione da questo volume a questo volume sono passati 15 anni e soprattutto in questo volume si affronta un tema secondo me molto interessante ovvero il fatto che la discussione negli anni non sia mai stata tirata fuori anzi è sempre di più scemata come se da un lato la prima ondata di autori e autrici afroitaliani fosse stata sensazionalistica fosse stato qualcosa di nuovo fosse stato davvero qualcosa di cui si doveva parlare perché era la novità era la cosa esotica anche poi dopo però questa discussione si è spenta si è spenta o comunque ha avuto sempre meno riflettori puntati gli autori e le autrici afroitaliane hanno affrontato in qualche modo anche quel meccanismo un po' malato della nostra società che fondamentalmente vuole vedere solo alcune cose come se tu autora e autrice afroitaliana puoi parlare solo e unicamente di identità, di dramma, di questioni migranti e questa è una cosa sbagliatissima se ci pensate cioè è come se io che sono donna parlo solo dell'essere donna fondamentalmente è come se la propria definizione fosse solo e unicamente la propria identità e di quello devi parlare e di quello devi raccontare e da un lato è importantissimo che persone afrodiscendenti raccontino la propria storia ma dall'altro lato non si può rinchiuderle in quella gabbia in quel giardinetto dove o parli di questo non mi interessi e più secondo me anche l'interesse in generale per questi autori è decisamente scemato però passiamo avanti e torniamo a parlare di pecore nere è un libro che ho divorato anche perché qua invece entra tanto in gioco la famiglia entrano tanti in gioco questioni più intime e personali l'ambiente domestico e la propria storia si mescolano molto bene e questo per me è stato molto interessante e molto utile per capire soprattutto anche cose che io non vedo ci sono storie molto diverse tra loro ma in realtà hanno molte cose in comune la prima che è quella di Ija Bascego racconta dell'avere tante valigie in casa come se la situazione della migrazione fosse qualcosa di temporaneo questo è un suo ricordo da bambino come se il fatto di avere sempre le valigie pronte ti dice a un certo punto si ritornerà in Africa molleremo tutto quello che abbiamo qua perché fondamentalmente è solo temporaneo ed è un po' una sensazione che secondo me è anche imposta dai fattori esterni cioè il fatto di non sentirti mai e non farti mai sentire come se sei arrivato questa è la tua realtà è qua che potrai costruire la tua vita e è stato molto interessante soprattutto vedere come le dinamiche familiari siano completamente diverse ma a un certo punto abbiano questi punti in comune c'è questo mal d'Africa da un lato perché è una cosa che hai ma non hai e ce l'hai sempre dentro ma fondamentalmente forse non l'hai mai toccata non l'hai mai vissuta a pieno ed è un po' la storia che raccontano tantissime di queste autrici io di queste ho preferito tra tutte oltre a hijab che vabbè è già un amore per quanto mi riguarda Laila Wadia dopo questo volume e infatti è arrivato Se tutte le donne e Laila a me piace tantissimo come scrive ha veramente uno stile che amo ed è molto semplice non arricchisce non si sofferma nel dover abbellire tutto è veramente da un lato un po' asciutto ma sempre preciso sempre proprio dritto come un fuso e quindi io adoro e in questo caso anche qua raccolta di racconti però della stessa autrice è un libro davvero molto interessante perché racconta non solo di donne ovviamente afrodiscendenti ma racconta di una serie di realtà che hanno e accomunano le donne cioè esistenze che fondamentalmente ti mettono di fronte a una serie di fratture a una serie di complessità e soprattutto a ciò che affronta un po' tutto l'universo femminile e ha affrontato cosa significa anche in qualche modo essere una donna nel mondo di oggi o più o meno nel mondo contemporaneo perché ha un po' di anni però insomma è un libro molto recente ci sono storie veramente che mi hanno presa tantissimo molto diverse da loro fate conto che si passa da una donna benestante moglie di un ambasciatore a una madre palestinese fino ad arrivare non so rifugiati politici eccetera eccetera è una raccolta che ha molto meno a che fare ovviamente con l'identità afrodiscendente e quindi per questo insomma volevo fare anche un po' un salto verso non solo ciò che parla di identità afrodiscendente ma insomma quello che vi dicevo anche prima autrici afroitaliane in questo caso Laila che affrontano proprio invece altre cose altre questioni ed è stata una boccata d'aria perché veramente scrive in una maniera che a me piace moltissimo è diventata davvero una delle autrici che anche in questo caso voglio recuperare spero di recuperare il più possibile perché mi piace moltissimo il suo stile quindi questo è proprio l'ultimissima raccolta che ho letto e insomma il mio viaggio di esplorazione tra le autrici afroitaliane per ora con questa prima introduzione finisce qua spero di avervi raccontato un po' i motivi soprattutto per cui mi hanno affascinato moltissimo queste storie e le complessità di tutta questa narrazione che trovo davvero utile davvero necessaria da un lato e anche insomma vedere tutte queste voci diverse e leggere storie che davvero secondo me non hanno solo a che fare con l'afrodiscendenza e con l'identità ma soprattutto insomma la voglia di definirsi come autrice penso sia qualcosa che chiunque di noi possa comprendere al di là di ogni ogni barriera ogni cosa ogni pregiudizio eccetera quindi insomma volevo iniziare a parlarvene perché io ne sto leggendo parecchie di autrice fra italiane e non vorrei relegarle mai solo al fatto che siano autrice fra italiane però dargli un po' di spazio penso sia una cosa sicuramente utile e un punto di partenza perché insomma non ne ho trovati molti di video che parlavano di questo argomento e invece è qualcosa che io ricercavo volevo un sacco di consigli come vi ripeto in E poi basta di Esperance Ripanti trovate una bibliografia molto interessante se volete approfondire autrici e io sono qua insomma spero di avervi fatto un'introduzione che possa aver stimolato in qualche modo la vostra voglia di leggere e di approfondire e niente io direi che per oggi il Feminist Friday finisce qua spero che insomma anche questo video sia stato interessante di avervi tenuto compagnia ricordatevi che il Feminist Friday continua sempre anche su Instagram dove se voi postate una foto usando l'hashtag Feminist Friday io lo riposterò nelle mie stories insomma sono molto curiosa di vedere come sempre tutte le discussioni che ne nascono quindi niente direi che per oggi è tutto e noi ci vediamo per questa rubrica prossimi venerdì e invece per tutto il resto al prossimo video ciao